musica dico vuoi arrivare ai livelli di jammy tights? si voglio diventare jammy tights io vuoi diventare pelato? vuoi fare i tatuaggi sulla testa poi? si si mamma dov'è il salama al cioccolato? salama al cioccolato? so e poi vuoi fare sesso con i trans jammy? no quello no quello lo fa casatillo se vuoi io no ah bravo poi me lo dici tu così e non lo so di fare sesso con i trans? no no io no lo fa solo a casatillo poi ci dico io a casatillo di fare sesso con i trans ok bravo e bravo è stato addestrato bene allora a fare sesso con i trans? si in tutto è stato addestrato bene non me lo sarei mai aspettato vabbè oh jammy in versione try harder attenzione 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 jeman attenzione jeman vuole perdere la nonna finale su 9 non ci credo che oggi ho perso veramente 9 finali non ci riesco a credere non ci voglio credere salame al cioccolato salame al cioccolato è un dolce non so se lo conosci no come no che cazzo che ignoranza che ignoranza cerca su internet salame al cioccolato ho beccato una palla in pieno già sono caduti io pure l'ho beccato una palla di queste gialle in faccia proprio jeman al cioccolato dolce un po' salato io ho le palle sudate dai raccordai che passi dai no ci sono qualificato dove sei già modificato l'avevo già visto animali dietro a me stai 36 37 poveri animali della fattoria iaiaio Paco questo game lo perdo per te ho capito Paco ok allora lo vinci non lo so no è che vingo ho perso 8 su 8 facciamo 9 su 9 fammi scrivere qua devo rispondere un attimo stai qui sul cane ma perchè hai scritto per quegli orari che non giocherò mai che significa? ti ho detto porti il cane fuori poi giochi finali 8 e 25 non ho mai giocato a quegli orari ah perchè quindi dopo te ne vai già fra 20 minuti per esempio no e che significa? forse quindi giochi quindi quando torno non è che ti trovo che te ne vai rinprovviso no no lo so dipende se c'è qualcosa da fare oppure non vi da quel cazzo fortnite for guys fortnite for guys fortnite for guys fortnite for guys ma tu a chi resti poi? ma le 8 e mezza devo andare no no io lo dico a portare il cane fuori ah le 6 e mezza ma Gemma se li vanno in suo cacchio ok te li messo davanti in 88 Gemma ma di 88 la Gemma ma c'è di tu davanti a me io ci provavo a passare tu fermo no oddio ma c'è culo ma guarda là che culo quelli fied ahahah hai visto fatto per quanto come mi sono buttato il culo rotto tu il culo rotto tu oh tu cano Gemma ne affianco a me non è vero no a me mi dice che stai alla terza figa al numero 7 wow te l'ho calcolato al momento si bravo bravo auguri prego prego jump club grazie grazie vado grazie grazie prego grazie questo jump club non si può fare con 88 persone però che palle non fa niente ma venivano eliminati io pago guarda fammi fare una guattata pago in quanti siamo rimasti ci hai fatto caso? no 22 no impossibile 22 3 8 5 6 7 8 9 9 10 15 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 16 15 20 15 15 15 16 18 19 e poi dopo sto un po la cammina ma impara ad usare il bagno si si impara andare sul gabinetto proprio che c'è fuoco dentro il bordo viola tornissimi che erano adesso saranno la finale ex con il bestemmio dai faccio 3 3 3 faccio tre finali perse a tutti i tre i giochi mi manca solo la royal fumble della perdo e mo se la link per la prima volta il titolo e in quanto mai quando non c'è man balla il tipo tappo tipo tappo pago vedere questa che becco io sono inutili e cato sotto guarda faccio vedere come si sacrifica il vostro soldato gemma nuova guardate quella buona anche questo è buono anche questo è buono anche questo è buono anche questo è buono e quella no però da anche questa buona date fermi questa buona ma anche questa buona ma anche questa era buona favore è piaciuto il tryhard del razzesco dovuto capo primo non ci credo però che c***o mi sono cagato va avanti che c***o no no avanti vanti qua no non ci credo no è finita non vedo che c***o che c***o mi sono 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 c***o non ci credo per quanto ci sono saltato sulla linea nooo non ci credo per quanto ci sono le nocce mi sono c***o che dolore mcgopo non ho spiegato c***o un attimo manovato non ho tagliato un po' con il mollo di somma ah vabbè 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 Pago ma come cazzo fai a rimbalzare? sei rimbalzato di schiena ti ho visto quando io è cornuto non si può fare niente no uno sta già eliminato Pago un altro che sta al giallo già Pago io ti consiglio di far te la saltellando poi non so fai tu te la senti te la fa saltellando no no non me la senti Pago quanto stai rischiando Pago sta uno che sta al giallo sopra tutto per è caduto Godo è ricaduto è caduto Godo Godo è ricaduto sono due eliminati buono come fanno a non cadere questo c'ho le calamite al culo c'ho le caramelle nel culo è caduto sta al blu pure lui Godo è morto eh però sta uno al giallo sopra è caduto pure questo qua Pago mi sa sei ma non lo spezza ma no sta questo qua il blu soprattutto si è finita Pago sta uno sta soprattutto sta meno che non cade di otto piani insieme ma non credo è caduto di otto piani sta l'ultimo no mi sono fatti la felice è stessa porca manda la foto su gruppo manda la foto su gruppa Gigi mamma dov'è il salame al cioccolato? che culo che culo il cazzo di culo che ho avuto madonna